. Einar è uno dei protagonisti della 69esima edizione del Festival di Sanremo 2019 dove gareggerà con il brano Parole Nuove . Al suo fianco in questa nuova ed importante avventura ci sarà sicuramente la fidanzata Valentina Ragnoli a cui il cantante ha dedicato una canzone durante una delle puntate del talent show Amici di Maria De Filippi. Questo bacio è per lei . Non la vedo da tempo e mi manca tantissimo aveva detto il giovane cantante. Reduce dall'esperienza televisiva del programma di Canale 5, Einar è riuscito quest'anno a conquistarsi uno dei posti di accesso per partecipare direttamente tra i big di Sanremo, un'esperienza che sicuramente avrà reso orgogliosa la giovane Valentina . Che è Valentina Ragnoli.Classe 1995, Valentina Ragnoli è una giovane ragazza. È iscritta alla Facoltà di Economia presso l'Università degli Studi di Brescia, ma ha anche una grandissima passione per la danza . Valentina, infatti, è una ballerina, ma si diletta anche a fare l'influenza. . I due si sono conosciuti all'incirca un anno fa, un vero e proprio colpo di fulmine, visto che Einar e Valentina si sono subito innamorati l'uno dell'altro . Tantissime le dediche che Valentina ha fatto al suo amore, oggi volevo spendere due parole per te amore . Sono ogni giorno sempre più orgogliosa di quello che sei e che stai diventando, sia a livello personale che come cantante ha scritto la giovane ballerina sui social . Poi un messaggio di incoraggiamento e sostegno per il primo Sanremo, ti sostengo e sosterrò sempre, sia in questo tuo percorso che al di fuori . Sono qui al tuo fianco. Ed hai proprio ragione chi non rischia non rossica. Forza amore, ti amo . Intanto voci di corridoio parlando di un possibile matrimonio tra i due. Anche la mamma di Einar è felice della scelta del figlio, Valentina è una ragazza che mi piace molto e che mi sembra sia molto innamorata .